Vivere di rendita è il sogno di molti. Anche se non è per niente facile riuscire a sfondare questo traguardo, ci sono diversi modi per riuscirci. Uno dei miei preferiti è sicuramente investire in ETF da dividendo. Ma quanti soldi ci servono effettivamente per riuscire ad abbandonare il nostro odiato lavoro e vivere di rendita felici e contenti per il resto dei nostri giorni? Beh, la cifra dipende molto da quanto vogliamo guadagnare come rendita ogni singolo mese. In questo video ipotizzeremo una rendita mensile netta di 1000€. Lo so, questa cifra è sicuramente molto esigua per chi ha magari due figli a carico e sta affrontando un mutuo che è aumentato del 70% per quanto riguarda quelli a tasso variabile rispetto allo scorso anno. Però è una cifra che magari può bastare a un single che ha una casa di proprietà e che soprattutto non è uno spendacione. Comunque in realtà una volta che capirete i calcoli da fare, poi potrete fare i stessi calcoli per capire quanti soldi vi servono per guadagnare magari 2000 o 3000€ al mese. Oltre a questo ragazzi vedremo anche due esempi di ETF che distribuiscono succosi dividendi e poi vedremo anche i rischi dietro a questi strumenti finanziari, come giusto che sia. Prima di tuffarci all'interno di questo contenuto volevo dirvi che questo video è stato realizzato in collaborazione con Darwinex. Maggiori info più avanti nel video. Cominciamo dunque cercando di capire che cosa siano gli ETF da dividendo. Stiamo parlando di fondi che replicano un indice azionario e che investono in quelle azioni che distribuiscono dividendi ai propri possessori, ai propri azionisti. Questi strumenti finanziari sono molto amati dalle persone che cercano anche un'ottima diversificazione in quanto si espongono in tante società diverse. Alcuni possono contenere anche migliaia di aziende diverse che sono quotate in borsa e che distribuiscono dividendi. Comunque le società che pagano dividendi di solito sono imprese piuttosto sicure, piuttosto solide, con una lunga storia alle spalle e che hanno una buona capacità di generare utili e di distribuirli ai propri azionisti. Un chiaro esempio può essere Procter & Gamble, il colosso americano dei beni di consumo che paga il 2,51% del valore di ogni azione posseduta. Questo sarebbe il suo dividendo attuale. Ma ora andiamo a vedere adesso quanti soldi ci servono per riuscire a vivere di rendita guadagnando 1000€ netti al mese investendo per appunto in ETF da dividendo. Però prima di vedere i calcoli insieme lasciate che vi introduca velocemente lo sponsor di oggi. DarwinX è una fintech peer-to-peer che collega gli investitori con i trader esperti. Questo intermediario dà la possibilità di investire sulla strategia di un trader ma in un modo particolare. Per farlo bisogna acquistare un Darwin che sarebbe un indice che replica per appunto la strategia di un trader però con un livello di protezione maggiore. Infatti un Darwin non può guadagnare o perdere più di una certa percentuale del suo valore. Come investitore puoi comprare e vendere un Darwin come se fosse un ETF. Ogni Darwin ha un certo valore all'acquisto. Poi chiaramente in base alle performance del trader questo valore può aumentare o diminuire. Però con un rischio atteso fisso del 6,5% massimo. Puoi aprire un conto su DarwinX sia come trader che come investitore. Se vuoi provare la piattaforma senza rischi allora ti consiglio il conto demo. Per quanto riguarda il lato sicurezza possiamo stare tranquilli in quanto la piattaforma è regolamentata dalla Consob italiana, dalla CNMV che sarebbe l'autorità di vigilanza spagnola e dalla FCA che sarebbe l'autorità del Regno Unito. Se vuoi maggiori info sappi che puoi prenotare anche una video call guida con un esperto di DarwinX. Quindi ragazzi se volete provare anche voi questa piattaforma allora cliccate sul link in descrizione che vi porterà sul sito ufficiale attraverso il quale potrete aprire il vostro conto. Detto questo ritorniamo al video. Quindi abbiamo detto che vorremmo guadagnare 1000€ al mese che sarebbero 12.000€ all'anno. Per semplicità consideriamo una tassazione del 26% in Italia che sarebbe per appunto la tassazione sui dividendi in Italia per le persone fisiche non in regime di impresa. Per trovare quindi il capitale da investire dobbiamo applicare questa formula. Capitale uguale somma che vorremmo guadagnare fratto rendimento. Nel nostro caso la somma che vorremmo guadagnare è di 12.000€. Per quanto concerne invece il rendimento dell'ETF da dividendo consideriamo un 4% che direi che sia legittimo. Quindi avremmo bisogno di investire 300.000€ per guadagnare 1000€ al mese. Tuttavia attenzione perché questi 12.000€ sarebbero lordi e non netti. Per ottenere 12.000€ netti dovremmo investire 405.405€ all'incirca. Se invece vorreste ottenere 24.000€ netti all'anno cioè 2.000€ netti al mese sarebbe necessario investire il doppio ovvero 810.810€. Sì lo ammetto è una cifra parecchio alta però dovete considerare una cosa. Nel corso del tempo l'ETF si può anche apprezzare se il prezzo delle azioni al suo interno cresce di valore. Di conseguenza non solo possiamo ottenere una rendita dovuta alle azioni da dividendo all'interno dell'ETF ma possiamo ottenere anche un apprezzamento del capitale se le condizioni del mercato ce lo consentono. Ora ragazzi invece vediamo un paio di esempi due in particolare di ETF dal succoso dividendo. Attenzione perché questi non sono dei consigli di investimento ma sono solamente due esempi a scopo informativo che potrete prendere in considerazione per fare ulteriori analisi e indagini. Mi raccomando prendete sempre le vostre decisioni in base a ciò che vi suggerisce la vostra testa e non in base a un video che avete visto su YouTube. Quindi vediamo il primo. Allora questo ETF replica l'indice S&P Global Dividend Aristocrats che include le società con una storia di almeno 10 anni consecutivi di incremento dei dividendi. Ha un costo di gestione anno dallo 0,45% e distribuisce i dividendi trimestralmente. Attualmente il suo rendimento da dividendo è del 4,98%. Per quanto riguarda le performance negli ultimi tre anni ha guadagnato il 29,20%. Un altro ETF che conosco e che ha un buon rendimento da dividendo è quest'altro. Questo ETF replica un indice che include società con un alto rendimento da dividendo a livello globale. Ha un costo anno dello 0,29% e distribuisce i dividendi trimestralmente. Il rendimento da dividendo attuale è del 3,68%. Invece sul lato performance, se osserviamo gli ultimi tre anni, possiamo vedere come abbia guadagnato circa il 38%. Quindi cari amici, fino ad adesso abbiamo visto che cosa sono gli ETF da dividendo, di quanti soldi necessitiamo per riuscire a guadagnare una rendita mensile netta di 1000€ ma anche di 2000€. Poi abbiamo visto due esempi di ETF che distribuiscono un succoso dividendo. Ora invece parliamo dei rischi che ovviamente ci sono e vanno approfonditi e studiati. Quindi parliamo di un paio di rischi degli ETF da dividendo. Se investi in un ETF che replica un indice che si basa sui dividendi allora sappi che uno dei rischi è che le società che compongono quell'indice possano non pagare più i dividendi oppure possano tagliare i dividendi pagati ai suoi possessori. Questo chiaramente può influire negativamente sul rendimento del proprio investimento. Comunque la distribuzione dei dividendi da parte di una società dipende molto dalle condizioni finanziarie della stessa ma dipende molto anche dalle politiche di distribuzione degli utili prodotti. Se una società si trova in grosse difficoltà finanziarie può decidere di tagliare i dividendi ai propri azionisti e di sfruttare quei soldi per investirli in altre attività produttive magari per poter compensare un debito che si ha a carico e per poter uscire fuori dalla difficoltà che si sono riscontrate. Questo può accadere comunque in periodi di crisi, di recessione oppure quando si verifica un cambiamento strategico a livello aziendale. Per ridurre questo tipo di rischio bisognerebbe investire in quei ETF che contengano al loro interno quelle società che magari vantano una lunga storia alle spalle di distribuzione dei dividendi e magari dividendi anche crescenti. Un altro rischio può essere anche quello di concentrazione settoriale che si verifica quando un ETF si espone su un singolo settore oppure su un gruppo limitato di settori. Un esempio può essere un ETF che si espone sul mercato dei chip, il che potrebbe essere un grosso problema perché se un domani per caso la Cina decidesse di invadere Taiwan, nella quale c'è anche TSMC che sarebbe il più grande e importante produttore di chip al mondo, ecco tutte le aziende contenute all'interno di quell'ETF potrebbero risentirne negativamente facendo quindi depreciare l'ETF stesso e quindi il nostro investimento. Un altro rischio ancora è quello dei tassi di interesse. Infatti se i tassi di interesse aumentano in modo aggressivo esattamente come sta accadendo adesso, in realtà come è successo negli ultimi 12 mesi, il rischio è che gli investitori possano spostarsi su un altro tipo di asset in quanto possano considerare investimenti in ETF da dividendo meno attrattivi e possano considerare invece più attrattivi investimenti in titoli di stato di nuova emissione che magari possono rendere di più e possono essere più sicuri e vantino anche una maggiore liquidità. Oltre a questo c'è il vantaggio della tassazione. Per esempio investire in BTP ci permette di avere un'agevolazione fiscale in quanto si pagano come tasse il 12,5% invece che il 26%. Quindi ragazzi siamo arrivati alla fine. Abbiamo visto in questo video come funzionano gli ETF da dividendo, abbiamo visto un paio di esempi di succosi ETF da dividendo, abbiamo visto quali sono i rischi e quanti soldi abbiamo bisogno per riuscire a guadagnare una rendita abbastanza importante da questo tipo di asset. Fatemi sapere se avete tratto del valore da questo video e se anche voi investite in questo tipo di asset. Grazie per la visione, io vi saluto e vi do appuntamento al prossimo video. Ciao!